Ciao a tutti, in questo modo vi dimostreremo un altro trucco per scelverci, la bicicletta. Una finta molto difficile da fare, ma che però si può fare comunque. Prendete velocità, parlando da centrocampo circa, e poi tenete premuto L2 e poi fate con la rete analogica destra su, giù e poi su, su. No, scusate. Allora, è complicato anche per me che ve la sto insegnando, pensate. L2, poi tenete premuto con la analogica destra, giù, su, su. E vedete che fa la bicicletta. Però se la lunga parecchio, quindi non è molto facile da praticare in partite, quindi è sconsigliabile anche questo. È spettacolare, ma un po' più efficace. Vi ripeto, allora, partite da centrocampo, prete posto di velocità, L2 premuto, poi analogica destra, giù, su, su. Le alza e le vuoi tirare. Vi ripeto ancora, questo è molto sconsigliabile per le partite vere e proprie, qua stanno solo sull'arena, perché se allunga la palla mantevolmente, allora è facile che vi perdiate palla. Però con 1-3-4-0 potete anche fare questo rischio qui, provarsi quando state stravincendo. È spettacolare, è molto efficace. Grazie a tutti e buonanotte. Da, sia dolci per stare. Grazie a tutti.